In questo tutorial spiegheremo come impostare i tubi in Frigad. Clicchiamo sul pulsante nuovo, aggiungiamo un cilindro, torniamo il tasto 1, aggiungiamo un altro cilindro, lo ruotiamo di 45 gradi il secondo, però verso l'asse Y, la Z la mettiamo a 0 e la Z di position un pochino più alto. Creiamo lo spessore con appunto col pulsantino in alto, ma ovviamente bisogna prima selezionare le due facce piane. Abbiamo difficoltà a vedere l'altra faccia e quindi la nascondiamo. Permette il tasto spazio. Seleziamo entrambe le facce piane con CTRL oppure CMD su Mac. Selezioniamo il pulsante spessore. Quindi dopo aver fatto lo spessore andiamo a selezionare entrambi i cilindri e quindi a unire i tubi con il pulsante sopra a T, blu. Impostando il cilindro ad angolo 180, mi ricrea la forma della lettera D. Grazie per aver guardato il vostro tutorial e ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie per aver guardato il vostro tutorial e ci vediamo alla prossima.